E' un match vietato per chi soffre di vertigini, quello del comunale Checcarini di Marciano, dove Nestor e Narnese scendono in campo per la ventitresima giornata del campionato regionale di eccellenza. Gli uomini di Montecucco, reduci dal K.O. esterno contro la capolista Tiferno, hanno la possibilità di sfruttare il fattore casa per fare irruzione in zona playoff e portarsi ad un solo punto proprio dagli avversari di giornata. I ternani invece stabili al secondo posto, ma che non vincono dalla diciannovesima, tra uno in casa del Sanzisto, devono tornare al successo per non rischiare di vedere la vetta della classifica Scapparvia. Arbitro dell'incontro è Paolo Grieco della sezione di Ascoli Piceno, coadiuvato dagli assistenti Spena e Di Grazia di Perugia. All'andata finì 2-0 per la squadra di Sabatini, oggi in tribuna causa squalifica, entrambe le formazioni con diverse defezioni nell'undici tipo. La cronaca, alla quarta d'ora primo squillo della partita, con i padroni di casa protagonisti, percussione personale di D'Ambrosio che entra in area di rigore e tenta un tiro cross, che non trova però la deviazione sotto misura di nessun compagno, con la sfera che termina così sul fondo. Al ventitresimo è Davide Sisani a provarci direttamente su calcio di punizione da 25 metri, ma il bel destro a giro del trequartista locale si spegne sopra la traversa. La partita è bloccata, con le due squadre che si rispettano senza riuscire a trovare un modo per emergere e le occasioni così latitano. Alla trentanovesimo Andrea Leonardi prova a scuotere la Narnese con una conclusione dalla distanza, ma il suo tentativo si perde alto sopra la traversa. Squadra negli spogliatoi dopo un minuto di recupero, con il parziale iniziale dunque invariato. Con le riprese ed il montaggio di Massimiliano Tosti passiamo quindi alle immagini del secondo tempo. Dopo 40 secondi Bellini prova a sorprendere Baldoni dalla distanza, conclusione potente ma centrale con l'estremo difensore locale che blocca seppur con qualche titubanza. Partono meglio gli uomini di Paterni che pochi istanti dopo ci provano anche da punizione, con il tentativo di Raggi che sorvola l'incroce dei pali, non trovando di un nulla lo specchio della porta. Il match, nonostante l'avvio super dei secondi 45 minuti, prosegue sulla falsa rega del primo tempo, con l'impressione che solo un guizzo personale potrebbe sbloccarlo. Guizzo che arriva puntuale al venticinquesimo, quando Davide Sisani pennella un cross al bacio per Raffa Raghini, che con l'aiuto del palo supera l'incolpevole Kunzi. Nestor 1, Narnese 0. Gli ospiti non si danno per vinti e provano a recuperare lo svantaggio, ma al quarantaduesimo Kunzi per poco non combina la frittata, rimediando con un guizzo sulla linea di porta e cacciando fuori in extremis il pallone ormai diretto in rete che sarebbe valso il raddoppio marcianese. I Narnesi ci provano fino al termine di 5 minuti di recupero, ma al triplice fischio finale è festa in casa Nestor. Al che carini di Marciano, Nestor batte Narnese 1-0. Con il direttore sportivo della Narnese, un periodo un po' così per la Narnese rispecciato dalla sconfitta di oggi, cosa sta succedendo? Non sta succedendo nulla, è un periodo in cui le cose durante un campionato possono girare più o meno bene, in questo momento stiamo raccogliendo poco. Anche oggi è una partita che ritengo di poter affermare da 0-0, poi c'è stato un episodio del gol e complimenti alla Nestor. Noi abbiamo lavorato bene e con tranquillità e quindi continueremo a lavorare bene, con tranquillità e serenità. Noi, come abbiamo dichiarato sia io che il Presidente, lotteremo fino all'ultima giornata, dell'ultimo minuto e dell'ultimo secondo. Andrea Montecucco, tecnico della Nestor. Mister, questa Nestor non soffre di vertigini se la sconfitta di domenica scorsa come contro Latiferno poteva sembrare una prova di inferiorità rispetto alle big. La vittoria di oggi dimostra che i marcianesi se la possono giocare con tutti ed ora la classifica diventa essere davvero importante. Sì, siamo contenti perché siamo a un passo dall'obiettivo nostro, ci siamo veramente quasi arrivati. E' detto bene, con le grandi noi abbiamo fatto male, quindi ci tenevamo in maniera particolare a vincere oggi perché comunque sui scontri con le prime tre in classifica avevamo raccimolato pochi punti mentre nelle altre avevamo fatto benissimo. Evidentemente questo ci ha detto che dobbiamo migliorare ancora, però onestamente abbiamo fatto fin qui un campionato io credo strepitoso, anche perché abbiamo iniziato praticamente la nona giornata perché dopo le prime otto ne avevamo soltanto sette punti e poi abbiamo fatto un cammino incredibile. Adesso ancora non è finita, la partita non è stata oggettivamente bellissima da un punto di vista tecnico, però a livello proprio mentale siamo stati bravi. Quindi oggi sono veramente contento, faccio complimenti alla squadra, adesso ci riposiamo stasettimana e poi ci rimettiamo sotto per questo finale.